Il presidente della regione, Roberto Occhiuto, sta lavorando a un progetto per rendere possibile un futuro collegamento aereo tra la Calabria e la Turchia. In questo momento il presidente Occhiuto si trova proprio a Istanbul, in Turchia, affermando che è stato per 24 ore con l'amministratore unico di Sakal, perché si è richiesto all'ambasciatore italiano in Turchia un appuntamento con l'amministratore delegato della compagnia aerea Turkish Airlines per lavorare ad un collegamento aereo che collegherebbe la Calabria agli hub aeroportuali più importanti del mondo. come in questo caso Istanbul e Francoforte, per far raggiungere la Calabria da più posti del mondo. Dice il presidente Occhiuto, è un'altra delle iniziative che ho messo in campo per rilanciare il sistema aeroportuale della Calabria. Abbiamo fatto la manifestazione di interesse per Ryanair, Whitsair, EasyJet ed è andata benissimo. Tra qualche giorno uscirà il bando per dare i contributi a questi vettori che vogliono collegare la Calabria con altre città italiane, d'Europa e del mondo. Sono convinto, a proseguito Occhiuto, che con il lavoro, anche quello che sembrava impossibile, rilanciare il sistema aeroportuale della Calabria con tanti voli per e dalla Calabria lo renderemo possibile.